Noi dobbiamo riuscire a capire quello che il compositore voleva dire in un primo momento. Dobbiamo trasformare questo messaggio e farlo arrivare dritto nel cuore della gente. Tortellier diceva che bisogna eseguire Bach come un ruscello, come l'acqua di un ruscello che scorre. Nella maniera più naturale possibile. La musica di Bach è come un'alchimia. Per arrivare a ottenere il risultato giusto, tu devi passare attraverso un certo percorso. La musica di Bach commuove. Quello che contiene è talmente profondo e allo stesso tempo articolato. E' matematica ma allo stesso tempo arte. E' poesia e allo stesso tempo è tutta programmata. E' sconvolgente.